ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video blog barra chiacchiericcio come state spero bene allora questo video è per parlare un po con voi sempre che la telecamera non faccia scherzi tanto metodi così perché sennò non vedo cosa sto facendo ok si sta registrando dunque vi volevo dire che tra poco faccio il letto faccio insieme a voi fatto bene poi in un altro video e parleremo di prodotti dopo per capire adesso non ho idea di cosa combinare cosa fare dirvi allora ho mangiato fatto tutto quanto non ho ancora lavato i piatti non ho idea di quando la però però per dettagli niente ragazze e ragazzi miei io adesso vi lascio e ci vediamo dopo per fare il letto a dopo ragazzi non l'ho detto nulla però pazienza ecco qua letto disfatto ora lo facciamo assieme dai buona visione ragazze ciao vediamo un po come sistemare questo letto allora ho appena fatto il letto potete vedere di girare la camera questo è il letto fatto e niente ok vabbè peggio di così non si può niente questo è il letto fatto e basta sperando che voi questo questo video vi possa piacere e che aspettate che mi metto fa così ok cosa ho fatto ho fatto prima un video e adesso registrando quest'altro se non si lascio lì vedete tutto il casino che ecco qua questo è tutto il casino che tra poco sistemerò ok a parte questo casino che mi vedo io qua dietro le mie spalle ma vabbè dettagli questi sono dai sistemiamo un po insieme ma questo è da mettere da buttare come tutto questo vedete cos'è io coltore che avevo recensito poi quest'altro qui della colgate quest'altro è da buttare via perché avevo già recensito un sacco di volte e niente da dai ma dopo anzi a un altro video al prossimo video ciao ragazze vi voglio bene ciao ah mettete un like se questo video vi è piaciuto un commento e supportatemi con un'iscrizione appunto oltre che il like e attivate la campanella ciao 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 ciao